Il sito è il luoghi di Margari Bonisterra. È stata una grandissima notizia per me che sono, forse lei non lo sa, ma una fanatica del digitale. Invece Giuseppe Prosperi che mi conosce bene lo sa che sono. Però sono una utilizzatrice del digitale in maniera sensata e questo cerco di applicarlo e di avviarlo anche a scuola. Se i ragazzi del nostro istituto avranno la possibilità di utilizzare questo sito come una vera e propria piattaforma di conoscenza, e potranno elaborare prodotti, approfondimenti, video, articoli, saggi e quant'altro. E avere una repository, un posto dove poter inserire a memoria futura, proprio per quello che diceva anche adesso Mendicino, non dobbiamo perdere la memoria, nemmeno di quello che facciamo, nemmeno di quello che approfondiamo e poi magari non sappiamo più dove va a finire. Ecco, questa opportunità per la nostra scuola sarà enorme, sarà un vero e proprio progetto didattico che potrà andare avanti, diciamo, all'infinito, finché durerà il web e potremo lavorarci. Quindi questo mi ha fatto venire in mente una serie di idee che poi vedremo di sviluppare. E quindi, ecco, ho il piacere di presentarvi Sergio Frigo che per gli altopianesi non ha bisogno di presentazione, è altopianese lui stesso, uno dei massimi esperti delle opere di Mario Rigonesterno, è appunto curatore di questo sito I luoghi di Mario Rigonesterno, il cui abbiamo brevemente accennato adesso. Ci parlerà di Mario Rigonesterno, compaesano del mondo. Grazie. Sì, è stato con un certo sgomento che nei giorni scorsi mi sono, sgomento, ansia, possiamo dire, forse per ammorbidire, che mi sono reso conto che sono, tra i relatori, sono l'unico altopianese nativo, diciamo, e questo mi carica anche un po' di responsabilità, per questo un po' di ansia, diciamo, nel intervenire su questo tema. Il gioco forza, quindi, per me, è parlare del Mario da compaesano, anche se io, per la verità, primo non sono di Asiago, sono di Canove, per cui, scusate, ma, secondo, sono da 40 anni, abito lontano, un lontano abbastanza relativo, Padova, però comunque un'altra dimensione, diciamo così. Forse sono anch'io un montanaro di seconda classe diventato, come diceva Matteo Melchiorri questa mattina. Nel rileggere il mio intervento, ieri sera mi sono accorto che ero scivolato verso una dimensione autobiografica, non nel senso che parlavo di me stesso, ma nel senso che ero portato a confrontarmi con la figura del Mario, compaesano che aveva fatto il ritorno a casa, in relazione al me stesso compaesano che invece se n'era andato. Mi è venuto in mente, alla fine, che questo intervento, in qualche modo, risponde, è un tentativo di risposta a una domanda che mi aveva fatto più volte il Mario, scuotendo la testa un po' con compatimento, un po' con disapprovazione. Mi chiedeva, ma come fallo a stare a Padova, come fallo a stare in città? E magari si parlava di inquinamento o di traffico, però il sottinteso era come fa a vivere lontano dalla sua comunità, come fa a scegliere come residenza un posto diverso da questa meraviglia in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere. Allora non sapevo bene cosa rispondere e farfugliavo qualcosa che aveva a che fare con le occasioni di lavoro, qualche volta credo di aver recitato il famoso motto secondo cui la città rende liberi, ma di fatto nella risposta vera non sono mai riuscito a formulargliela. Ora sono giunto un po' alla conclusione che la risposta sia non tanto nel modo in cui io e molti altri altopianesi espatriati, diciamo così, stiamo al di fuori dell'altopiano, ma forse nel modo con cui il Mario stava qui, sull'altopiano. Ecco, allora andiamo con ordine. Io partirei da un'immagine che mi intriga fin da quando ero poco più che adolescente. È una cartolina con un omino vestito di tutto punto, cappello in testa e valigia in mano, che sta partendo con un passo deciso, solo che il suo piede è legato ad un palo con una catena. Credo che si tratti di uno dei quadri paradossali dipinti da René Magritte, quelli per capirsi in cui c'è l'uomo che si guarda allo specchio e vede la sua schiena, per esempio. Questa immagine purtroppo non la trovo più né nei cassetti di casa né su internet, ve l'ho cercata a lungo, mi sarebbe piaciuto molto farvelo vedere perché secondo me rappresenta bene, in maniera diretta e speculare, visto che parliamo di specchi, il rapporto ambivalente di noi altopianesi espatriati con la nostra terra. La cartolina in questione mi era stata infatti regalata da un amico e compaesano con una domanda che era più o meno questa, è quest'uomo che parte, sono io o sei tu? Facendo riferimento appunto alla coesistenza conflittuale dentro di noi, della spinta ad andarsene da quassù e del desiderio di tornare per fermarsi, per poi magari avere di nuovo dopo poco il desiderio di andarsene di nuovo. Ecco, a me pare che anche in Mario Rigoni Sterno coesistessero queste due anime, quella dell'uomo che parte, che ci ha ristratto in Mario Sneghe questa mattina, che parte senza peraltro mai tagliare del tutto i ponti dietro di sé, e quella dell'uomo che ritorna, che è più in sintonia con l'immagine classica che abbiamo coltivato di lui. Ecco, solo che per illustrare compiutamente questa sua seconda anima, ci vorrebbe in realtà un'immagine speculare a quella che vi ho descritto, anche perché il Mario che ritorna dalla guerra nella sua strada più bella della terra, la sua via Ortigara, nel racconto che magro che sei fratello, ha dietro di sé dei fidi robustissimi, di cui parleremo più avanti, che gli impediscono di ripararsi, nel senso di trovare riparo, ma anche di riaggiustarsi all'ombra della sua casa, nei suoi boschi e con la sua famiglia, ma lo tengono legato al vasto mondo, di cui per cinque lunghi, lunghissimi anni ha fatto esperienza. Ecco, il Mario, con un paesano inquieto però, in realtà, c'era già in luce nel bambino, che assieme agli amici si arrabbicava sui quattro larici, che fino all'anno scorso erano fuori dalla scuola, lui, delicata. E si arrabbicava con i ragazzi, con i compagni, per leggere libri di pirati e corsari, vagheggiando avventure nei mari lontani. Oppure c'è nel ragazzo che ascoltava affascinato il racconto di un immigrante viaggiatore, che parlava di suoi viaggi meravigliosi in Cina, in Alaska e in Argentina. O meglio ancora, nei due giovani protagonisti delle stagioni di Giacomo, che affacciandosi per la prima volta sulla pianura di un campo di Narcisi a Granezza, tenendosi per mano e guardando sotto i paesi sottostanti, il Brenta, l'astico, le città lontane, pensano all'unisono, emozionati e affascinati, come basta la terra. A 17 anni, dunque, Mario è pronto per andare, perché avvertiva l'Altupiano come un'isola, cito i Nenghi stamattina, ma cito Giuseppe Mendicino, questa parte della sua biografia, un mondo a parte che lo tiene lontano dalle avventure e da una vita migliore. Ha paura che i giorni gli passino addosso senza emozioni e senza sogni. La sua voglia di andare via in cerca di emozioni e di un miglioramento sociale e individuale è irrefrenabile. Eccolo dunque, cercare persino di arruolarsi in marina, senza saper nuotare, e poi prendere la strada della Valdosta per diventare alpinista rocciatore. Ma come nell'immagine fantasma di cui vi ho detto, i legami con l'Altupiano non si recidono per niente. Al momento di partire nel 1938, Mario è presidente dei giovani di azione cattolica e passo le consegne all'amico Rino Rigoni, mantenendo però a lungo con lui una fitta corrispondenza, tutta incentrata sulle problematiche della situazione e su quello che viene in prese. Nelle lettere recuperate dal don Pian Antonio Giorse, pubblicate nel 2015 dalla tipografia moderna, con l'apporto a cura di Giuseppe, il giovane alpino maschera la nostalgia di casa che ha cominciato a puntierlo praticamente in fondo al costo, dietro al racconto scanzonato e vivace della vita militare e delle sue avventure sulle cime alpine. Ma chiede continualmente notizie degli amici, esulta quando riceve delle fotografie e delle cartoline da loro, condivide i lutti della comunità e anche gioisce per le poche gioie che in quigli anni Cupi la comunità conosceva. Il ricordo di Esiavo si fa particolarmente intenso a Corato il 17 maggio del 39, giorno della grande erogazione. In quel giorno ero in riva ad un fiume per far tattiche di guerra, scrive qualche settimana dopo a Rino. Ma il mio spirito era con voi e alla sera mi pareva che nelle orecchie mi risuonassero come negli anni passati i sante Mattei, santo Antoni, eccetera, eccetera. Un ricordo che diventa doloroso timore di essere dimenticato dalla sua comunità l'anno successivo quando rispondendo ancora a Rino che gli diceva delle ragazze che avevano chiesto di lui durante l'erogazione gli dice chi vuoi che si ricordi ancora di me che sono ormai 18 mesi che sono soldato. Ecco, essere dimenticato della sua comunità è la cosa che più lo preoccupa, diciamo. Mi ricordo un po' il tenle che la sera del passaggio del secolo accende un falò e lui ovviamente è l'attentante accende un falò sul cimbo del Monte Cass per far sapere la sua comunità che festeggia che anche lui è lì in mezzo a loro. Ecco, eppure il Mario ancora nel dicembre del 1941 quando aveva già assaggiato le durezze della guerra in Francia e in Albania e ancora lui è forte in richiamo del viaggio dell'avventura se scrivendo alla famiglia del santo lo benedetto Vesco vi dice fra poco lascerò l'Italia per ritornare a camminare e combattere sono contento, contentissimo il mondo è bello da girare e poi si imparano tante cose vedrò la vecchia Austria l'Ungheria è sognatrice la Bulgaria odorosa la laboriosa Romania l'ubertosa Ucraina e poi chissà che non vadi a finire Eccatai sulle orme di Messer Marco Polo era la vigilia della sua prima partenza per la Russia e proprio durante questo lungo trasferimento in terreno nel gennaio del 1942 gli capitò un piccolo episodio peraltro piuttosto noto che sarebbe diventato emblematico del suo atteggiamento successivo nei confronti di tutte le genti del mondo la compaesanità Mario racconta nel Bosco degli Orogalli che mentre il treno era fermo a causa di un intervento che avevano fatto il danneggiamento di un ponte per la precisione ad opera dei partigiani locali e gli sentì un uomo a terra gridare agli italiani io guerra Italia io asiaco Mario salta a terra si mette in qualche modo a parlare col polacco un anziano reddice della prima guerra mondiale si capiscono si abbracciano lui gli regala un pacchetto di sigarette l'altro le facendo di aspettare si incammina verso il villaggio vicino da cui annota lo scrittore quasi mi aspettavo di vedere uscire mio fratello più piccolo e mentre i comilitoni ridono e commentano che Rigoni ha incontrato un compaesano in Polonia il polacco ritorna portando un secchio di birra e Mario scrive ne ho bevuta di birra in giro per il mondo ma di simile no di certo e mai purtroppo ne berrò e l'uno racconta del suo doppiano l'altro gli confida della miseria in cui è costretto a vivere della fame e quando il treno riparte si salutano a lungo dal finestrino poi il giovane sergente Mario in un angolo del vagone virgolettato accompagnato dal ritmo delle ruote sulle rotaie pensava per la prima volta in vita sua al destino della povera gente alla guerra che pretende che la povera gente si ammazzi a vicenda e si chiedeva chi ritornerà di quanti siamo su questo treno quanti compaesani incideremo e perché c'è chi al mondo siamo tutti paesani secondo quello che mi pare forse Giuseppe potrà mentirmi ma credo sia una delle prime volte in cui Mario ha perfettamente la concezione la consapevolezza di questa situazione della loro situazione di soldati mandati a conquistare una terra straniera di cui francamente non avevano particolari interessi che in qualche modo erano costretti a conquistare perché comandati a quell'episodio fece riferimento nell'indirizzo di saluto che mi scrisse quando nel 1999 fondai una rivista che si chiamava Cittadini dappertutto che si occupava di relazioni culturali interculturali e per cinque anni raccontò il mondo dell'immigrazione nei suoi difficili rapporti con la nostra società da quel momento mi ha scritto il Mario in quell'occasione da quando cioè sentì di gridare il nome del mio paese in un piccolo villaggio polacco ho capito la paesanità di ogni abitante della terra da allora in guerra in pace nella fame e nella sofferenza nell'abbondanza e nell'allegria in ogni luogo ho incontrato con paesani per lui naturalmente non c'era niente di angusto di chiuso di limitante in quella parola c'era piuttosto un senso di universalità che nasceva dalla pluralità delle appartenenze locali coniugato con la valorizzazione delle diversità come dimostra questo piccolo testo che ovviamente mi è molto caro l'allontanamento dalla sua piccola patria l'andare nel mondo si chiuderà apparentemente solo dopo i tre terribili anni della Russia e della prigionia quel maggio del 9 maggio del 1945 che lui deve presentarsi lacero magro e malato alla sua casa in via Artigara proprio la sera della grande rocazione quello è un momento in cui Mario dovrebbe tornare ad essere il compaesano altopianese di prima il giovane che prova a raggiustare le ferite del cuore al riparo appunto della famiglia e dei boschi della natura in realtà come ho già detto anche l'uomo che torna come quello che parte ha qualcosa che lo lega dietro le spalle sono delle catene pesantissime e parlo del ricordo angoscioso dei tantissimi compagni morti nella guerra che lo accompagnerà per tutta la vita e che rischiano di affondarlo nella disperazione ma per fortuna parlo anche dei fili più lievi che lo tengono a galla nel dolore e sono la rete di relazioni umane intessute negli anni di guerra un fardello di esperienze e di riflessioni inedite un sempre più maturo senso della storia in cui egli era immerso e tutto questo lo lega inevitabilmente al vasto mondo delle idee e delle genti si tratta di un patrimonio umano e intellettuale che avrebbe trasformato negli anni successivi il selvaggio ragazzo altopianese che egli era stato fino a prima del conflitto nelle lettere si definiva un orso nel grande scrittore e nell'uomo saggio e profondo che tutti noi abbiamo amato uno scrittore che sempre fa diventare la sua esperienza individuale la sua guerra la sua vita nella piccola comunità un racconto universale egli non fu infatti solo il cronista sconfitto di una disfatta etica prima ancora che militare ma l'antisegnano di un apostato non solo personale e non fu solo il cantore del suo del nostro altopiano ma forse suo malgrado l'interprete di tutta la montagna anzi di tutti gli uomini che vivono ai margini della nostra modernità e che rischiano di essere triturati dal progresso e risucchiati dalle secche di un meschino localismo quel patrimonio di esperienze e riflessioni cui ho accennato riversandosi nei suoi libri fu il lievito capace di trasformare un'esperienza di vita ancorata profondamente ad un piccolo e ristretto territorio in una narrazione accessibile ai lettori di tutto il mondo che lo sentivano e ancora lo sentono come il nostro scrittore che è la frase che fu usata in occasione del convegno organizzato qui ad Asiago per il suo 85esimo compleanno dai suoi traduttori giapponesi e nella stessa occasione il suo traduttore ebraico Arno Bayer scrisse disse che i suoi personaggi sono uomini e donne senza nome nella storia persone vere a cui vorresti stringere la mano e alle quali ci si sente legati da una implicita fratellanza universale questo è dunque il Mario compaesano del mondo che a partire da quel difficile dopoguerra avrebbe convissuto accanto al Mario compaesano di Asiago cercando alimento alla sua speranza in un mondo pacificato nella natura vicina che in lui è risanatrice delle ferite delle storie come ci ha fatto capire anche l'intervento di Mercalli stamattina e poi nel rinnovato contatto diretto o per iscritto con gli uomini più diversi con i quali confrontare le rispettive appartenenze e le quali assorbire nuove idee nel rispetto delle differenti identità sono stati molti da allora gli amici vecchi e nuovi che egli ha accompagnato per le nostre montagne oppure richiamato quassù con i suoi scritti fino a far storcere il naso a qualche compaesano geloso dei propri angoli nascosti e timoroso forse di mettere a rischio la propria identità confrontandosi con qualche identità foresta ed era proprio mentre fondava sempre più in profondità le sue radici come un grande albero che egli spingeva verso l'alto e sempre più lontano i suoi rami quei patrimoni naturalmente andava alimentato dalla lettura e da significative relazioni umane intellettuali come ci ha appena raccontato Giuseppe ma anche da numerosi viaggi sulle tracce della memoria come quelli in Russia in Ucraina in Polonia eppure nei paesi una quindicina almeno in cui lo invitavano le istituzioni culturali o le università sulla scorta del suo crescente successo letterale naturalmente c'era ben poco di convenzionale e il suo viaggiare la signora Ana mi ha raccontato che preparava queste trasferte con cura meticolosa mesi prima procurandosi studiando le cartine persino i sentieri e una volta sul posto voleva soprattutto incontrare le persone capire come vivevano con una particolare attenzione al rapporto fra le comunità e il territorio e il loro ambiente diciamo di questo rimangono ottimi reportage pubblicati soprattutto sulla stampa e poi raccolti in alcuni volumi come il magico Colgo per esempio soprattutto Mario non accettava limiti condizionamenti al suo andare anche in questi paesi stranieri arrivando persino a rifiutare un invito ufficiale in Albania quando seppe che non gli sarebbe stato consentito di visitare i luoghi in cui aveva combattuto anche nella maturità gli coltivò infatti quell'ostilità verso le imposizioni e verso i muri confinari che lo caratterizzava fin dal ragazzo e che trasfuse in tenole il suo alter ego letterario a sua volta diviso come abbiamo sentito stamattina tra le forze che in primavera lo trascinavano via da l'alto piano e le forze che in ottuno lo riportavano a casa un'attitudine quella quell'ostilità verso i confini diciamo che traspare ad esempio nel racconto della sua salita a cima 12 quando aveva già 63 anni con l'ipote in cui delinea con buon'aria ironia una vicenda dei primi del novecento quando attorno alla cima più alta dell'altopiano si era sviluppata una pittoresca bega di confine fra gli redentisti italiani e quelli ostilici che loro presidiavano il confine universale del trentino attorno agli inizi del novecento scrive Mario sfida a cima 12 questo racconto era accaduto che qualche pattuglia di soldati ostilici ogni tanto sconfinasse ma forse era solo per incontrarsi con le nostre pattuglie di alpini con il fine di scambiarsi in sorso di grappa una borraccia di vino lì ai piedi dell'alto 12 ma è da supporre che anche i nostri soldati passassero di là e poi cos'era questo confine che nei cacciatori né i pastori né i contrabandieri che erano capaci di definire ma ai patrioti e ai nazionalisti questa cosa non andava ne seguirono blitz dalle due parti per dipingere dei rispettivi colori la croce che c'era sulla cima protesti ufficiali contro blitz riparatori l'atteggiamento di rigoni esterno verso queste peghe di confine era quello che ho detto un po' ironico di sufficienza era quello di pastori e cacciatori e contrabandieri che non se ne curavano e continuavano le loro attività come avevano sempre fatto quella montagna restava fra i joc o cima delle dodici e l'antico e il nuovo esistevano insieme per questi motivi oggi lui probabilmente non ridirebbe ne abbiamo parlato anche con Alberico di fronte al ritorno dei muri e dei confini delle separazioni e delle chiusure localiste che stanno interversando in tutta Europa Mario lo sappiamo amava intrattenersi con i compaesani per una chiacchiera al bar o incontrarli e fermarsi con loro per i sentieri delle nostre montagne oppure amava girarsi in questo periodo dell'anno naturalmente che coincideva anche con il suo compleanno tra le tombe del cimitero per ritrovare amici e familiari scomparsi e ha lasciato in eredità alla sua comunità un'identità che è fiera di se stessa ma al tempo stesso non discrimina né esclude gli strani anzi proprio nel libero e secondo confronto con essi ritrova la sua ragione di essere ed esalta la sua specificità ma la sua eredità etica prima ancora che letteraria è diventata un blasone universale quasi l'emblema di una nobilità accessibile a tutti coloro che hanno un cuore puro amore per l'uomo e rispetto per la natura al di là della loro lingua della loro religione o del colore della loro pelle ecco dunque caro Mario la mia risposta alla domanda come effetto a star via dall'altopiano si può stare nel mondo senza tradire l'altopiano come cerchiamo modestamente di fare noi espatriati proprio perché come hai fatto tu si può stare sull'altopiano senza uscita del mondo anzi combattendo fino alla fine per cercare di rendere un po' migliore quassù batti il cuore del mondo ma nel mondo grazie ai tuoi libri batti il cuore dell'altopiano grazie a tutti grazie a tutti